ma non l'ho pubblicata l'ho togliata l'ho stotto quello là questo lo sai quando tu questo lo sai quando quando poi si attesa e non si è capace le vecchie due dalle e la scuola è la scuola è la scuola è la scuola la scuola è la scuola è la scuola è la scuola è la scuola braccialo, solo braccialo piano, piano, piano via, via, via via, via bravo via, via, via fich la palla vichia, vola con la palla l'ha toccata non c'è caro bravo 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 il port là via tutti Sì a tutti, mettete lo che fa. Alessandro, Alessandro. Giuseppe. Oh, Luca, Giuseppe, incrociatevi. Eccolo qua! Dove siamo? Andalo, eccolo qua! Ando, ando! Palleccia! Meloce, meloce! Ando, da lì! Nando! Palleccia! Grazie! Chi è il capo? Ma valla a me! Valla! Vieni! Guardate, resta di qua! Andiamo, dai, dai! Andiamo! No! Valla! Andiamo, dai, dai! Ma è il capo che non c'è dentro! Eccolo! Guardate! Vai! Guardate! Guardate! Valla! Guarda, guardate! Ehi! Ehi! Sospensione! 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 19 arancione! Quante mano? Avertino! Veloce! Un da dietro! Un da dietro! Un da dietro! Un da dietro! Ma cosa, Claudio? Cossi! Occhio, Luca! Ci sei, sta dietro! Ci sei, sta dietro! Un da dietro! Mario, guarda! Guarda! Solo hai battuto! Tu non hai battuto! Buongiorno! Mario! Vero! Vero! Bravo! Bravo! Vero! Vero! Bravo! Vero! Attacca! Attaccalo! Attacca! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.